Benvenuti su Viral News. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è una delle figure più ammirate nel mondo dello spettacolo. Recentemente, durante un'intervista a Verissimo, ha rivelato scioccanti dettagli del suo rapporto con la prima figlia di Amadeus, conosciuta quando aveva solo 5 anni. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Il legame tra Giovanna e Amadeus è forte, come dimostrano i continui segni di affetto reciproco. Parlando della sua relazione con la figliastra, Giovanna ha raccontato di come siano cresciute insieme e di come il loro legame sia diventato più forte di quello tra madre e figlia. Siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo, ha dichiarato alla conduttrice Silvia Toffanin. Inoltre, ha parlato del suo amore con Amadeus, descrivendolo come un legame che ha resistito alle difficoltà del tempo e si è consolidato con la maturità. Ha sottolineato che condividono tutto e si confrontano costantemente su ogni aspetto della loro vita. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere in un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.